Nuovo podcast per parlare un po' di quello che sarà il futuro finanziario dei prossimi addirittura 20 anni visto che ho finito di leggere un libro molto interessante che non è altro tra l'altro che l'annuario della Credit Suisse che fa un po' il resoconto degli ultimi 120 anni dei mercati finanziari e in più dà delle prospettive a lungo termine in base a quelli che sono stati gli ultimi anni e quindi si dà un'idea in base agli ultimi 20 anni e fa un confronto a quello che potrebbe essere i prossimi 20 anni diciamo subito le almeno percentuali, le statistiche basi il rendimento annuale del mercato globale degli ultimi 120 anni è stato del 7,6% netto quindi al netto dell'inflazione e quello invece del mercato obbligazionario è stato del 3,6% e una delle cose che più ci tengo a sottolineare è come si compone oggi il mercato mondiale molto importante anche perché poi riflette molto quello che è il lessino MSI World molti si chiedono perché la stragrande percentuale dell'MSI World è in mano all'America semplicemente perché rappresenta la stragrande maggioranza della capitalizzazione mondiale per la precisione diciamo le prime quattro posizioni il 54% è americano il 7,7% è giapponese, il 5,1% del Regno Unito e al quarto posto è entrata la Cina come mercati più capitalizzati e un'altra cosa che mi è balzata agli occhi è il fatto che in questo annuario si fa riferimento al fatto che i tassi di interesse sono rispetto alla media storica e veramente eccezionalmente bassi, molto bassi e tutto lascia pensare che rimarranno molto bassi perché fa questa riflessione qua? perché storicamente si è andato a vedere che quando i tassi reali sono bassi i rendimenti reali futuri non solo quelli azionari ma proprio quelli patrimoniali tendono quindi ad essere molto bassi e quindi inferiore anche alla media questo è molto molto importante non voglio dilungarmi molto voglio solo citare le parti più importanti che possono aprire una riflessione in tutti voi per quanto riguarda i prossimi 20 anni e per quanto alla fine è impossibile prevedere cosa succederà almeno abbiamo un'idea in base teorica quindi in base statistica più che altro di cosa potrebbe accadere nei prossimi anni se non nei prossimi 20 almeno nei prossimi 3, 4, 5 anni e gli autori sottolineano che quindi tutti gli investitori in generale dovrebbero avere una visione più realistica dei probabili rendimenti futuri che se di media negli ultimi 120 anni erano stati al 7,6% a loro fanno una considerazione più o meno statistica che possano diminuire intorno al 5% quindi loro prevedono che per i prossimi 20% se tu rimani i soldi su un MSI World giusto per intenderci invece di prendere il 7,6% prenderesti il 5% proprio perché i tassi sono davvero bassi quindi gli investimenti dovrebbero rendere di meno questo chiaramente anche correlato a quelle che sono le obbligazioni che rispetto al 7,6% hanno reso invece il 3,6% anche in questo caso bisogna aspettarsi di meno quanto loro fanno una considerazione e quindi arrivano a un circa 2,5% come vedete parliamo di veramente percentuali molto più basse di quelle che si sentono di solito e ci tenevo a fare questo podcast proprio per farvi rendere conto di come sono cambiate le dinamiche tra l'altro loro citano appunto l'eccezionalità del caso azionario perché proprio l'anno scorso è successo uno di questi anni straordinari come dicono loro per l'azionariato e cioè le performance del 2019 sono state altissime ricordiamo che l'SP500 giusto per citare uno degli indici più famosi ha reso il 33% che comunque loro sottolineo non è un 33% perché al cambio quindi cambio dollaro euro alla fine il rendimento reale è stato un 28% l'MSI World ha dato invece il 30% seggiato chiaramente altrimenti di meno e sottolineo come per quanto i fari i riflettori siano stati puntati su questi ultimi indici che vi ho elencato l'indice che ha fatto meglio l'azionariato che ha fatto meglio è stato quello russo che chiaramente ha fatto un rendimento al 56% nonostante questo l'America non è arrivata a seconda con il suo 33% ma è arrivata addirittura a terza perché se andiamo a fare sempre una comparazione al netto chiaramente del cambio la Svizzera ha fatto un che avesse investito sul mercato svizzero avrebbe avuto un rendimento del 33% questo perché l'ha voluto praticamente specificare perché questi sono stati anni eccezionali di spicco che molto probabilmente non vedremo più per i prossimi 20 anni quindi è molto 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 importante sapere questo tra l'altro ricorda che è vero che l'azionariato ha fatto così tanto ma è stato un anno eccezionale anche per l'obbligazionario perché le obbligazioni americane hanno dato hanno avuto un rendimento del 12% quello del Regno Unito del 9% e anche quello della Svizzera più o meno siamo intorno a quel 9% ma addirittura l'obbligazionario globale quindi mondiale ha dato anche più del 10% questo dovrebbe anche far riflettere su una delle cose che si dice spesso o che si è detto spesso in questi ultimi mesi in quest'ultimo anno e cioè che le obbligazioni rendono zero molte volte si confondono le cedole quindi la rendita con il rendimento che sono due cose diverse come dico spesso bisogna stare molto attenti chi segue il gruppo che ricordo è cambiare tutto cambiare subito previsioni sull'economia e la finanza sa come ho fatto un post dove spiego che negli ultimi mesi il mercato obbligazionario italiano ha reso il 26% e invece quello dell'azionariato italiano è in perdita e così poi alla fine eppure per gli ultimi 20 anni se si va a vedere visto che l'Italia ricordo che le azioni italiane nel 2000 il MIB nel 2000 ha superato i 50.000 punti direi più del doppio di quello che è adesso visto che siamo a poco più di 19.000 punti e ultima annotazione ho detto che non volevo fare un podcast veloce anche perché è un podcast lungo anche perché per chi vuole vedere qualcosa di più argomentato può vedere il video il primo video che ho fatto su youtube che il canale ricordo è cambiare tutto cambiare subito dove invece parlo un po' di come è cambiata l'economia negli ultimi 25 anni con dei grafici che potete vedere iscrivetevi sul canale se ancora non vi siete iscritti anche sul vostro canale podcast e sulla piattaforma che lo state ascoltando un mi piace sempre ben accetto come le notifiche con la campanellina sempre su youtube ricordo tra l'altro che tutti i podcast vanno automaticamente anche su youtube quindi avete più piattaforme dove ascoltare i podcast quindi mettete la notifica una volta messa la notifica vi arriverà automaticamente quando uscirà il nuovo podcast oppure il nuovo video su youtube ricordo ultima cosa il patreon trovate tutto nella descrizione oppure nelle informazioni del podcast comunque www.patreon.com slash cambiare tutto lo dico perché ho tolto praticamente tutta la pubblicità dai podcast e quindi alla fine l'unica entrata sono le offerte che fate voi su patreon e quindi dategli uno sguardo e ritorniamo invece all'annuario della Credit Suisse con tutte le statistiche quest'anno per la prima volta l'annuario ha inserito anche gli investimenti ESG questi investimenti stanno veramente crescendo davvero tanto sono cresciuti tantissimi negli ultimi anni in Europa ma come fa riferimento anche l'annuario se in Europa hanno raggiunto i 31 mila miliardi negli ultimi due anni in America il fatturato di questi tipi di strumenti di questi tipi di prodotti sono aumentati in maniera molto più alta di quella europea e se in Europa sono cresciuti del 34% negli anni tra il 2018 e il 2020 invece in America sono cresciuti del 38% un percentuale che sembra poco più alta di quella americana ma prima del 2018 questi prodotti erano cresciuti solamente dell'11% quindi percentuali che vanno sempre sempre più diventano sempre più alte per questo settore fanno riferimento in particolare per questi prodotti a come possa influenzare chiaramente il mercato e prendono ad esempio tre settori in particolare che secondo loro incominciano ad avere dei problemi proprio perché non hanno questo marchio questo sigilio e non lo potranno avere negli asset quindi parliamo dei fondi parliamo di ETF parliamo di tutti questi strumenti finanziari qui e quali sono questi tre settori sono i settori legati al tabacco alcol e gioco di azzardo ecco queste azioni che loro definiscono azioni del peccato hanno registrato sempre delle performance positive negli anni passati invece per il futuro se chiaramente aumenta e il trend continua ad essere così cominceranno ad avere dei problemi penso di aver fatto una carrellata veloce un po' dell'annuario e semmai in futuro ne riparlerò ma le cose basi che dovevo dire le ho dette e penso che siano state davvero chiare con questo è proprio tutto io vi saluto e vi ricordo come sempre che siete sotto il fuoco nemico